ciao ragazze come state tutto bene allora io sono appena tornata da una vacanza e sono anche influenzata comunque vabbè tralasciamo questo piccolo dettaglio oggi video velocissimo perché non potevo non mostrarvi un calendario dell'avvento troppo sfizioso che ho ricevuto ieri sera e oggi con la luce ve lo ve lo mostro velocemente ed è il calendario dell'avvento di cristina zaikanu le creazioni di cristi nell'info box vi metterò tutti i suoi contatti ed è troppo bello ragazze allora ve lo devo far vedere a pezzetti perché è talmente grosso grande lungo che allora questa la locomotiva che come vedete ogni pezzo c'ha il numerino quindi questa si andrà ad aprire il giorno 25 e poi c'ha 1 2 3 4 carrozze che sono piene di scatoline quindi di regalini che ogni giorno andremo ad aprile e quindi vedrete anche nel mio canale l'apertura di queste di queste scatoline volta per volta ne aprirò la domenica ci diamo come appuntamento e vi mostrerò le scatoline che ho ricevuto nella nella settimana parte dal giorno primo quindi da questo venerdì quindi domenica vi mostrerò quello che ho trovato il venerdì il sabato appunto è la domenica è veramente bellissimo io vediamo se riesco a mostrarvelo però è pieno di neve vedete le aveva annunciato ed è un calendario diverso dal solito e la cosa che mi piace un sacco è sapere che ogni vagone contiene appunto delle perline e comprando questo calendario avremo in regalo quattro progetti di quattro bravissime creative che verranno svelate piano piano per cui uno compra il calendario ha le perline e ha anche quattro progetti di quattro diverse creative quindi ce n'è veramente per tutti i gusti non vedo l'ora di vedere i progetti e dimostrarvi appunto il contenuto spero che questo questi video vi vi piacciono perché è una cosa che io adoro fare aprire i calendari calendari dell'avvento in particolar modo i miei figli hanno il loro della cancelleria dei lego del del cioccolatino e io mi accontento con un bellissimo calendario di perline e niente dai fatemi sapere a una cosa principale questo calendario vi metterò il link per acquistarlo come vedete è andato sold out però però cristina mi ha detto che se vi interessa perché comunque è veramente un prezzo irrisorio ve lo prepara quindi non esitate a contattare cristina io vi lascio tutti i suoi riferimenti e prenotate anche voi il vostro calendario trenino cioè troppo originale e poi ricordo perline e quattro progetti va bene vi mando un bacione e ci vediamo all'apertura ciao